Lamborghini simbolo del Made in Italy in tutto il mondo e noi siamo con Fabio Lamborghini, una serata speciale in cui si esaltano anche le eccellenze. Sì, direi proprio di sì, ha centrato il tema, sono qui appunto in questo evento importante che avrà poi culmine domenica in un'altra situazione, ma qui siamo appunto a rappresentare, a celebrare continuamente questi successi italiani, questo brand partendo da Lamborghini e gli altri, che sono l'orgoglio degli italiani, perché gli italiani in tutti i settori, quando ne hanno voglia, sono assolutamente i migliori. Ecco, questa è anche una serata di grande solidarietà, quindi eccellenze, solidarietà, ma anche cibo. Assolutamente sì, la solidarietà è importante, è un'eccellenza per il cuore delle persone, sono qui anche per questo motivo, e ne sono anche accompagnato in questo caso appunto dalla signora Patrizia Castiglione, che è della comunicazione dell'azienda Braccialini, appunto che farà dono di un bracciale importante per queste buone cause che pagano sempre, come dicevo prima, ad altri signori. E benvengano queste iniziative. Certo. Allora, dicevamo di questo dono. Marchio italiano, questo dono è dato per l'Unicef, per cui è dato in beneficenza, è un marchio italiano, gruppo Graziella Braccialini. Conosce Caserta, conosce la reggia di Caserta? La reggia di Caserta sì, che sono venuto qualche anno fa, meravigliosa, forse è ancora meglio di quella di Versailles. Sì, Caserta però ancora non la conosco, mi riprometto di trovare lo spazio per visitarla, ma sono sicuro che avrò delle belle sorprese. Allora l'aspettiamo. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.